L'A4 è un Caterpillar da 15 totellate 15 totellate, vogliamo fare un applauso ad Armando che adesso vi farà vedere cosa si può fare con un pezzo così pesante e davvero poco versante guardatelo qua, allora, grazie allora avete problemi di spazio a caso, giardino stretto, dovete metterlo a posto Armando viene, su commissione entra a due ruote non me ne accorgete neanche perché naturalmente per i cartelli più piccoli ha il Caterpillar il Caterpillar più verino, poi lo si metto piccolo 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 va bene, grande Armando intanto ce lo teniamo lì sullo sfondo Armando vi raccontiamo anche un po' di cose perché Radio DJ è presente al Motolive come radio di supporto di tutto l'evento noi tre ventiere siamo qua sul palco in prima domenica ovviamente ci atterneremo con gli speaker tecnici che invece entreranno nello specifico sulle mancicline ci saranno qua al Motolive dietro a noi, dietro al palco c'è posizionato il nostro studio capito a noi, dietro al pianeta